Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino. Quest'oggi sono 15 i nuovi casi in Abruzzo, due morti e 79 guariti e quest'oggi la provincia più colpita è quella di Chieti. Vediamo. Sono 15 i nuovi casi di Covid in Abruzzo, il più giovane tra i contagiati ha 8 anni, il più anziano ne ha 71. Di questi 12 sono residenti in provincia di Chieti, due in quella dell'Aquila, uno nel Terramano, mentre nessun nuovo caso è stato registrato nel Pescarese. E' quanto emerso dall'analisi di 1.150 tamponi molecolari per un tasso di positività dell'1,3%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due casi e sale a 2.482. Si tratta di una 67enne della provincia di Chieti e di una 79enne della provincia dell'Aquila. Considerando anche gli ultimi 79 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.493 positivi accertati, 66 in meno rispetto a ieri. I ricoveri in rapida flessione su base settimanale aumentano di 3 unità rispetto a ieri, passando da 147 a 150 posti letto occupati, di cui oltre il 90% in terapia non intensiva. Nel dettaglio 137 pazienti, 4 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica, 13 sono quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 5.343 positivi accertati, 69 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E con questo trend dopo Molise, Sardegna, Friuli, Venezia e Giulia, dal prossimo 7 giugno anche la nostra regione entrerà ufficialmente in zona bianca. Tra le regole che hanno caratterizzato la pandemia, decade completamente in zona bianca, quella del coprifuoco. Stefano Recanati. Solo 7 giorni e poi anche l'Abruzzo sarà per la prima volta da inizio della pandemia zona bianca. Un primo passo verso la normalità, a partire dal coprifuoco che verrà abolito, dunque nessun obbligo di rientro verso le proprie abitazioni alle ore 23. Con questa ordinanza saranno diverse le attività, dalla ristorazione alle cerimonie, dalle attività ricreative fino a cinema e spettacoli che ripartiranno dopo lunghi mesi di stop. Sarà possibile organizzare feste, soprattutto quelle che si tengono dopo le cerimonie civili e religiose, sempre però garantendo la sicurezza. I tavoli dovranno essere disposti in modo tale da garantire il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi. Mentre per ora, dalla circolare e ministeriale, non sembra esserci riferimento specifico al Green Pass in zona bianca. Per quanto riguarda i ristoranti, si potrà tornare a pranzo e cene anche all'interno, con il ristoratore che dovrà garantire sempre un numero massimo di persone ammesse all'interno, dove resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina per andare in bagno, pagare il conto, entrare e uscire dalla sala. Sarà possibile tornare ad organizzare e partecipare a congressi, sagre e fiere, dove andranno riorganizzati gli spazi per consentire l'accesso ordinato ai partecipanti. Potrà essere rilevata la temperatura e tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina. Dal lunedì prossimo via anche alla riapertura di sale giochi scommesse, bingo e casino. Qui sarà vietato l'uso di giochi collettivi che impediscono il distanziamento interpersonale. Ripartenza anche per piscine termali e centri benessere, dove fortemente è consigliata la prenotazione, sia l'utilizzo di spogliatoie e docce, ma garantendo la distanza di almeno due metri. Mentre all'aperto bisognerà garantire almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Comunque anche in zona bianca resta in vigore l'obbligo di distanziamento interpersonale, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti, così come l'uso obbligatorio della mascherina all'aperto quando non si potrà mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici. Prevista la sanificazione nei luoghi chiusi è una corretta areazione. Il capogruppo del PD in regione, Silvio Polucci, critica la gestione della sanità da parte della giunta regionale, denunciando un arretramento dell'Abruzzo sui livelli essenziali di assistenza. Il servizio è di Paolo Renzetti. Critiche arrivano dal centro-sinistra alla gestione della sanità nella nostra regione da parte della giunta Marsilio. A bacchettare è il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Silvio Polucci, che sottolinea come dopo 10 anni l'Abruzzo abbia perso posizioni sui LEA, i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Per il capogruppo del PD la causa è soprattutto la mancanza di un vero e proprio piano sanitario. Noi lo avevamo sempre sostenuto, senza una programmazione e con i disastri della giunta Marsilio saremmo arretrati. Così è, sono dati precedenti alla pandemia in cui si raffrontano i rilevamenti di tutte le regioni e mostrano per la prima volta dopo 10 anni al primo anno di gestione Marsilio un arretramento per quanto riguarda i livelli essenziali dell'assistenza, indicatori per misurare rete ospedaliera, territorio e prevenzione. Non va bene e non ancora abbiamo i dati della mobilità, purtroppo noi siamo a conoscenza che la migrazione dei cittadini abruzzesi e delle famiglie abruzzesi verso altre regioni è aumentata. Tutto ciò avviene perché non c'è lo straccio di una programmazione e anche il Covid peraltro poi successivamente a questi dati che sono del 2019 ha impattato e molto in questa regione perché sono rimasti indietro tantissime prestazioni. Non si può non avere un programma. Tutti i programmi sono addirittura dopo due anni e mezzo della precedente legislatura scaduti al 31 dicembre 2018 e se tu non dici alle ASL sostanzialmente cosa vuoi fare, come vuoi investire, su quali eccellenze, rete dell'offerta dal territorio alla prevenzione, all'ospedale vuoi dare priorità, i risultati sono questi. È davvero molto grave quello che sta accadendo nella mancanza di governance in sanità in questa regione. Anche Chieti nelle ultime settimane ha fatto registrare un notevole calo dei contagi. Intanto prosegue la campagna vaccinale anche in vista dei prossimi esami di maturità al Chietalase. Numeri sempre confortanti, quelli che arrivano dall'analisi dei tamponi nella nostra regione. Tra i capoluoghi di provincia anche Chieti, come Pescara, da alcuni mesi fa registrare un calo drastico dei contagi. Soddisfatto di questo risultato, il primo cittadino Diego Ferrara, il quale plaude il comportamento dei suoi concittadini e invita a non abbassare la guardia in vista dell'imminente ingresso in zona bianca. Per quanto riguarda Chieti sono almeno due mesi che viviamo una situazione veramente bellissima. Trovo ogni giorno zero contagi, un contagio, zero contagi. Chieti ha un'incidenza di contagi inferiore a tutte le città e a tutti i paesi della provincia di Chieti. Abbiamo un RT bassissimo di 0,75, inferiore alle altre regioni. Quindi siamo in una situazione veramente ottimale e questo grazie ai vaccini, alla campagna vaccinale che con tante difficoltà, alcune di esse non dirimibili, sta andando avanti benissimo. Io stesso sto vaccinando a domicilio tanti pazienti anziani non deambulabili e trovo una grossa corrispondenza nella cittadinanza. C'è ancora da fare. Con i ragazzi, i maturandi e gli altri studenti completeremo quella che è e che è l'obiettivo del commissario Figliuolo, cioè quello di aprire a tutte le classi sociali e di età la vaccinazione. Io sono certissimo che per questa estate, per la fine dell'estate, riusciremo ad arrivare all'immunità di gregge e spero che ci potremo mettere alle spalle questo brutto anno. Cambiamo argomento a Pescara, si continua a lavorare su più fronti per evitare la chiusura del centro psichiatrico di Via Vespucci. Vediamo il servizio. Si continua a lavorare su più fronti per evitare la chiusura del centro psichiatrico diurno di Via Vespucci a Pescara. Dopo l'appello dei sindacati schierati al fianco di lavoratori e degenti, una richiesta alla ASL di rivedere la decisione è arrivata anche dal comitato ristretto dei sindaci presieduto dal primo cittadino del capoluogo adriatico Carlo Masci. Noi abbiamo sottolineato un tema, non possiamo perdere nella città di Pescara dei servizi sanitari, soprattutto in questo momento storico. Sembrava che questo dovesse succedere o potesse succedere a seguito di provvedimenti emanati dalla ASL. Il comitato ristretto dei sindaci è servito per chiarire le varie posizioni amministrative. La ASL ha dimostrato ampia disponibilità a rivedere il processo amministrativo per fare in modo che Pescara non perda il centro diurno, ma acquisti una casa famiglia necessaria per i pazienti psichiatrici, per i pazienti neurologici. Quindi c'è un percorso che abbiamo avviato nell'incontro che si è avuto ieri. Penso che questo incontro porterà dei risultati positivi, anche perché noi ci siamo messi a disposizione dell'ASL per trovare degli spazi che possono essere adeguati in tempi medio-brevi per fare in modo che quel servizio che sembrerebbe essere stato svolto per troppo tempo in maniera provvisoria in un locale non idoneo, possa invece essere svolto in un locale idoneo per la tutela dei pazienti e per un servizio ovviamente migliore. Nel frattempo l'ASL ha detto che sta valutando una proroga, sta ragionando, ovviamente ci sono dei percorsi amministrativi che devono essere messi in campo. La cosa che noi abbiamo ovviamente preteso e l'ASL ci ha dato ampie garanzie è la tutela dei pazienti, che sono poi le persone fragili che devono essere tutelate e la garanzia che i percorsi sanitari siano i migliori possibili. Abbiamo sottolineato che il Comitato Ristretto dei Sindaci vuole svolgere a pieno la sua funzione di controllo ma anche di cinghia di trasmissione tra il territorio e coloro che dovranno decidere. L'assessore alla sanità Averiesi è detta assolutamente disponibile, noi abbiamo detto che vorremmo vedere una bozza che non sia definitiva, ma vorremmo trattare e ragionare con l'ASL per verificare quali sono i servizi essenziali che dobbiamo mettere in campo nel presidio ospedaliero di Pescara, di Penne, di Popoli, perché l'ASL di Pescara non ha soltanto il presidio ospedaliero di Pescara, per il quale oltretutto stiamo anche facendo una battaglia per portarlo al DEA di secondo livello come già avrebbe dovuto essere da tempo. La Averiesi è dichiarata disponibile, quindi ci ragioneremo sicuramente, ci siamo detti che faremo altri appuntamenti a breve proprio per verificare bene il piano di riordino della sanità ospedaliera. L'Abruzzo è la prima regione in Italia per spesa pro capite destinata al gioco d'azzardo e Teramo è la provincia abruzzese con il numero più alto di giocatori d'azzardo, dati gravissimi che hanno indotto l'ASL Teramana a restituire una helpline anonima con medici psicologi a supporto di chi soffre di questo disturbo comportamentale. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Il gioco d'azzardo colloca la provincia di Teramo al primo posto in Abruzzo con il 5,5% e l'Abruzzo al primo posto in Italia con 1.506 Euro di spesa pro capite. Inoltre il 9% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni fanno uso compulsivo di Internet. Dati gravi e preoccupanti che hanno indotto il CERT dell'azienda sanitaria teramana a correre ai ripari istituendo una helpline di ascolto e aiuto assolutamente anonima. Ci saranno medici e psicologi a supportare chi soffre di questo disturbo comportamentale e sarà diffusa una guida sui rischi del gioco d'azzardo. Già procediamo con l'attività clinica, con dei gruppi di sostegno psicologico, ne sono attivi due a Teramo e adesso oltre a un lavoro che stiamo facendo da un po' con le scuole con docenti e familiari, adesso attiveremo una helpline in cui potranno chiamare le persone sia per chiedere aiuto riguardo al rapporto col gioco d'azzardo magari problematico o potranno chiamare anche per chiedere aiuto su dei problemi legati all'utilizzo di Internet, all'utilizzo dei videogiochi. Da qualche giorno c'è anche un nuovo servizio telefonico. L'Asla di Teramo infatti ha aderito al call center regionale, un numero unico che rende più efficiente e veloce la possibilità di prenotazione del vaccino anti-covid. Nell'ultima settimana si è passati da 161 chiamate giornaliere a circa 800. Il 48% della popolazione teramana è stata vaccinata con la prima dose e a breve si inizierà a vaccinare i maturandi. Quali sono i vantaggi del One Call Center? Il vantaggio è che rispetto alla nostra forza che avevamo con il sistema telefonico nostro e di risorse, molto spesso il cittadino che provava a prenotare trovava occupato e non doveva nessuno per ore. Adesso, come dei dati che abbiamo visto, il cittadino può prenotare, disdire, nel caso trovo fosse occupato può essere richiamato dal CUP telefonico e quindi il contatto necessario è stabilito in maniera agevole. Intanto i contagi e i ricoveri diminuiscono sensibilmente. Ad oggi sono 21 i ricoverati all'ospedale Mazzini di Teramo e solo due in terapia intensiva. Inoltre l'ASL si è munita di un laboratorio per effettuare in proprio i tamponi molecolari. Abbiamo realizzato e abbliato il laboratorio dedicato all'esame di tamponi molecolari e da qualche giorno siamo autonomi nell'espletamento di tutte le attività inerenti alla lettura di questi tamponi. Riusciamo a gestirli da soli, ci rivolgiamo solo all'IZS soltanto per il controllo delle varianti perché le nostre strumentazioni non consentono questo. E ora la pagina della cultura ci riporta Pescara. Quest'oggi è stata presentata a Palazzo di città la 49esima edizione del Pescara Jets. Saranno presenti tra gli altri anche Gino Paoli e Vinicio Capossela. Assessore, torna il Pescara Jets 49esima edizione, un traguardo davvero ambito per un grande avvenimento per la città di Pescara e non solo per tutto l'Abruzzo. Assolutamente sì, uno dei grandi eventi che come ho sempre detto sui quali Pescara, alcuni di Pescara punta tantissimo, un evento di altissima qualità, non solo, un evento che dura varie settimane e quindi porterà a Pescara tantissimo turismo musicale, con grossi introiti diretti e indiretti per le attività commerciali e per la città stessa con il marketing territoriale. Siamo orgogliosi, anche l'anno scorso il Pescara Jets è andato in scena, ci sarà un nuovo presidente a cui vanno i miei auguri per la prima volta che dirige la 49esima rassegna del Pescara Jets, c'è un nuovo CDA e il Comune è sempre presente perché questo è un grandissimo evento sul quale il Comune di Pescara ha sempre puntato e punterà sempre. Per enfatizzare, mostrare il rapporto sempre fecondo tra il jazz e il mondo della canzone, in particolare avremo di fatto una prima assoluta molto importante perché Gino Paoli, un protagonista della canzone italiana, si unirà per una serata insieme a un gruppo jazz di 12 fiati, molto gustoso, davvero sarà una sorpresa per il nostro pubblico, si chiama Fankoff, insieme produrranno questa rivisitazione del suo repertorio. Poi c'è un'altra chicca molto importante che è il primo incontro tra Enrico Rava che forse è il nostro musicista jazz più rappresentativo al mondo, più conosciuto e Fred Hersch che è uno dei più importanti pianisti in questo momento, un pianista raffinatissimo, noto per la sua eleganza e questo incontro è davvero molto particolare e credo che caratterizzerà questa edizione del Pescara Jazz. Poi sempre per la sezione delle canzoni, delle songs abbiamo questo spettacolo molto particolare di Vinicio Capossela che naturalmente non è un artista jazz ma ha preparato uno spettacolo in occasione del 700 anni di Dante che si chiama La bestiale comedia, quindi uno spettacolo molto diverso da quelli che fa lui solitamente e anche qui invito il pubblico a vederlo perché è davvero uno spettacolo molto raffinato, molto bello. Sempre nel capoluogo adriatico il 5 e 6 giugno Piazza della Rinascita ospiterà il Pet Pride, la Kermess del mondo animale. Vediamo di cosa si tratta. Assessore, il 5 e 6 giugno gli animali, i cani ma non solo saranno protagonisti in Piazza Salotto a Pescara? Sì, una grande festa per i nostri amici a quattro zampe. Pescara sarà invasa da animali e l'invito è quello di non abbandonarli mai. Partecipate tutti perché ci saranno grandi divertimenti. L'abbiamo fortemente voluto perché è una novità dove non ci saranno solamente i nostri pelosetti ma ci saranno i gatti, i pappagalli, ci sarà qualsiasi tipo di animale. Giustamente c'è anche un angolo dove ci saranno possibilità di adottare qualsiasi tipo di animale. Sono due giorni di eventi. Saranno presenti tutte le unità cinofile dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia, Associazione Carabinieri, Protezione Civile Croce Rossa dove con i loro animali fanno le esibizioni che durante l'anno fanno i soccorsi. Poi ci sarà un'iscrizione che in questi giorni sono già iscritti in tanti per un pet model, una sfilata di animali senza distinzione di razza dove c'è una giuria presieduta dall'assessore Dinizio e da Tessa Gelisio e praticamente dove ci saranno anche dei vincitori. Il più simpatico è tutta una cosa molto carina. Saranno due giorni di eventi in piazza Salotto. Come mai avete scelto Pescara? Noi ne facciamo una all'anno di queste manifestazioni in giro per l'Italia. Quest'anno è toccata Pescara anche perché ce l'hanno richiesta già l'anno scorso poi causa il Covid è stata rinviata e quest'anno abbiamo dato la precedenza a Pescara. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Parliamo di calcio, presupposti differenti e situazioni ancora da risolvere. Così Pescara e Teramo cercano la quadratura a un mese dal termine per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Facciamo il punto con Jacopo Forcella. Lo stallo prima del momento delle decisioni. Pescara e Teramo, pur con presupposti diversi, vivono momenti paragonabili dal punto di vista della provvisorietà dell'attuale situazione. Quello che c'è di fatto è ancora quello che è rimasto rispetto alla stagione appena conclusa. Il resto sono ancora idee, solo idee, per il futuro. Perché il 28 giugno, termine ultimo per l'iscrizione alla prossima Lega Pro, si avvicina e in ogni caso la struttura sportiva del 2021-2022 andrà comunque organizzata in qualche modo. In casa Bianca Azzurra quello che è certo è che va individuata la figura del direttore sportivo. Mentre a Teramo, pursi in scadenza il 30 giugno, Sandro Federico potrebbe comunque essere confermato. Questa è la prima sostanziale differenza tra due club che hanno strade diverse anche dal punto di vista concettuale. A Pescara serve un cambio di rotta dopo lo shock della retrocessione dalla Serie B alla Serie C. Ed è per questo che sono giorni di nomi e voci relative a chi potrebbe essere l'uomo chiamato a ricostruire un progetto rinnovato in tutte o quasi le sue componenti. Il nome più caldo è quello attualmente di Pietro Fusco che a Pescara peraltro ha già giocato stagione 2004-2005 e che conosce bene l'Abruzzo perché con gli scarpini ai piedi è stato anche a Castel di Sangro e Lanciano. In settimana potrebbe esserci la scelta da parte del presidente Sebastiani. Individuare il nuovo direttore sportivo consentirebbe di risolvere anche l'enigma relativo alla casella fondamentale del nuovo allenatore. In questo momento c'è ancora Gianluca Grassadonia ma non è scontata la permanenza del tecnico. Anche se l'ultima parte di annata, a differenza di quanto accade un anno fa per Sottil, potrebbe essere stata utile per strappare il rinnovo. E questa è un'altra sostanziale differenza col Teramo che invece non avrà più Massimo Paci, accasatosi a Pordenone in Serie B. In casa Biancorossa la ricerca di un nuovo timoniere invece è scontata ma anche in questo caso tutto parte da chi si siederà dietro la scrivania. Non è un mistero, il filo rosso che legava pace a Federico e la partenza del primo tuttavia non dovrebbe per forza di cose incidere sull'eventuale permanenza del secondo. Altra differenza è quella dell'organico in casa Pescara. Dopo l'ok a prolungare l'avventura di Memushai anche Balzano potrebbe essere una pedina per la prossima Lega Pro. Anche Masciangelo potrebbe avere un'opportunità in terza serie ma in generale la necessità è quella di ricostruire se non da zero quasi. A Teramo invece pur con parecchi elementi sotto contratto per capire se ci sarà rivoluzione o no c'è da aspettare le eventuali conferme OAD dei protagonisti, molti, in scadenza il prossimo 30 giugno. Se lasceranno in tanti causa mancato rinnovo allora la rosa che verrà avrà una fisionomia rinnovata per forza di cose. Dovessero invece prevalere le conferme si andrà sulla falsariga della stagione appena conclusa. Una prospettiva impossibile questa per il Delfino che ha bisogno di dare una ventata nuova ad un ambiente che è raduce da due retrocessioni consecutive. La prima scampata per la questione Trapani, la seconda invece certificata dal campo. L'unico vero punto in comune però sembra la ricerca di forze nuove che possano permettere di dare slancio a progetti calcistici non proprio nella fase ascendente per utilizzare un eufemismo. Sia Sebastiani sia Gachini cercano introiti per dare nuovo vigore alle loro idee. Sarebbe quello della base societaria del primo tassello anche antecedente alle architetture calcistiche. Ma di tempo ce n'è pochino di opportunità davvero col contagocce e chi saprà accogliere l'opportunità giusta, ammesso che ce ne sia una, potrà presentarsi ai nastri di partenza con maggiori velleità. E a questo proposito per la stagione sportiva 2021-2022 la formazione dei gironi del campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord-centro-sud. E' quanto ha stabilito il consiglio direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in videoconferenza. Alla base di questa decisione, votata all'unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del consiglio direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei gironi, che avvalendosi del supporto di Cineca ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Andiamo in Serie D nel recupero della ventinovesima giornata del Girona F. Giulianova sconfitto al Quintoricci dall'Aprilia per 1-0. Rete decisiva di Vasco su calcio di rigore nella ripresa, anche se i giallorossi sono ormai certi della permanenza in categoria. Allora riviviamo le azioni salienti del match di ieri pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi dal campo Quintoricci di Aprilia. Da Carlo Edoardo Canepone stanno entrando in campo Aprilia e Real Giulianova, ma prima dell'inizio della gara verrà consegnata una targa al campione della Aprilia, Ruben Oliveira, che come tutti ormai sapranno ha dato l'addio al calcio giocato. Più di 400 presenze in carriera con 70 gol ha vissuto anni straordinari in Serie A, ha indossato la maglia della propria nazionale, l'Uruguay ha fatto innamorare Aprilia e i propri tifosi. Grazie di tutto Ruben, questa la targa che è consegnata a Ruben Oliveira, un campione che ha giocato in grandi squadre. Fischetto in bocca del signor Bruno Spina, comincia la partita tra Aprilia e Real Giulianova, primo possesso in favore dei giallorossi. E gli strappa il pallone, attenzione perché recupera sulla tre quarti l'Aprilia, c'è un po' di spazio per Fucci, che fa con il sinistro. Parata bassa, dimora, pala centrale, barlafante sul sinistro, barlafante si crea lo spazio. Tiro smorzato, facile per Salvati. Prende qualche metro il Giulianova che però rimane nei pressi dell'area, poi il tiro e il palo da parte di Massetti. Improvviso il destro delle numero 11 che ha colto in preparato Salvati, che viene salvato dal palo. Laghigna cerca lo spazio per il sinistro, ancora Laghigna, fa tutto bene Laghigna! Palla fuori di nulla, ma si prende tanti applausi dalla tribuna, Eric Laghigna. Il dubbio c'è fischio, si va al riposo con il risultato di Aprilia 0, Giulianova 0. Forcini stoppa il pallone, pensa al tiro, poi scarica dietro per il destro. Da parte di De Cerchio, palla alta, lontana dai pali. Bosi che mette giù, punta Tedone, ancora Bosi, sterza contro sterza, poi si ferma. Palla interessante e c'è il calcio di rigore per l'Aprilia, è andata a terra. Mi è sembrato pesone, mentre arriva anche il giallo, per caso parte Vasco, intuisce Mora, ma non basta. L'Aprilia è avanti, realizza dal dischetto Lorenzo Vasco, subentrato da 15 secondi al posto di Succi. Si prende la responsabilità di battere il rigore e lo realizza battendo Mora al ventunesimo ormai del secondo tempo. D'Antonio, punta Ietti dietro per De Cerchio, fa partire il destro. Palla larga non di molto. C'è spazio quindi per il Giulianova con Barlafante che tocca con il destro. E la palla scivola al lato di nulla, grandissima chance per il Giulianova. Uno, due, tre, eccoli qua i tre fischi. Vince l'Aprilia, uno a zero contro il Real Giulianova. Decide il rigore di Vasco a metà ripresa. Aprilia che sale a quota 38 punti in classifica. Giulianova che rimane terz'ultima, ma comunque salva a quota 28. Ancora a Serie D, è stato nuovamente rinviato il recupero tra Pineto e Castelnuovo che si sarebbe dovuto disputare dopodomani, mercoledì 2 giugno, ma rinviato per casi Covid nella squadra del Vomano. La stessa società del Castelnuovo ha fatto sapere in una nota che in questi giorni si stanno effettuando i tamponi di uscita dal protocollo ASL. È proprio mercoledì, dopo due settimane di stop, la squadra tornerà ad allenarsi al campo. L'obiettivo è tornare a giocare domenica nel match previsto dalla giornata di campionato in trasferta contro il Tolentino. Inoltre, per consentire al campionato di terminare nel termine previsto del 20 giugno, il Castelnuovo Calcio ha dato disponibilità alla Lega Nazionale di Lettanti, qualora fosse necessario e accettato dalle altre squadre, per disputare ulteriori turni infrasettimanali di venerdì. Passiamo ora alla pallavolo. Matteo Bertoli è un nuovo giocatore della Bapineto Volley, la nuova mano pesante della pallavolo italiana, figlio del grande Franco Mano di Pietra, ex capitano della Nazionale. Sarà un nuovo schiacciatore biancazzurro. Un profilo di alto rilievo, non solo per i suoi 1,98 m d'altezza, ma per un campionato di spessore che sarà utilissimo alla causa a Teramana. Un'importante pedina a disposizione di Mr. Rovinelli, in vista della prossima stagione di Serie A3 Crede in Banca. Classe 88, Bertoli ha disputato 312 partite in 12 stagioni, tra A1, A2 e B1. In Abruzzo ha già indossato la divisa della Sieco-Ortona. E questa era l'ultima notizia, l'informazione tornerà alle ore 23, ma prima, come tutti i lunedì, alle ore 21, c'è il replay di Enrico Rocchi. Grazie e buona serata. Grazie.